Le rilevazioni condotte a Niscemi dal 9 all'11 marzo scorso dai tecnici incaricati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa escludono che le antenne dell'impianto satellitare della Marina Militare statunitense, MUOS, siano nocive per la salute. I campi elettromagnetici, dicono i tecnici, raggiungono le decine di 1000 volt metro solo in un'area limitata a circa 200-300 metri verso sud dalla piattaforma dell'impianto, altrove sono inferiori al centesimo di volt per metro. Il Tribunale Amministrativo regionale e poi il CGA avevano accolto il ricorso del comitato MUOS per bloccare i lavori pur condizionandolo all'analisi adesso consegnata dai tecnici. Non ci aspettavamo nulla da rilievi, era un test di comodo, dice il presidente di Lega Ambiente Sicilia Gianfranco Zanna, e fatto in modo blando e senza alcun rigore scientifico, ma se qualcuno pensa di poter riprendere il percorso che porta alla sua messa in opera commette un grave errore e compierebbe atti illegali perché il MUOS, dice ancora, è e resterà pur sempre un'opera abusiva realizzata in una riserva naturale, la suggerità istituita nel 1987 dalla regione siciliana, in un'area di grande pregio paesaggistico che solo l'arroganza di chi l'ha progettata, di chi l'ha tacitamente consentita, ha potuto violare pensando di farla franca. Questa verità non si può cancellare, nascondere o far tacere. Per il coordinamento regionale dei comitati non MUOS, le ultime misurazioni sono state fatte a casaccio senza un preciso modello previsionale. Tutti i sistemi di antenne erano comandati da remoto, dunque fuori dalla base di Niscemi, senza possibilità di alcuna verifica sulle reali modalità di utilizzo delle antenne. Lo stesso coordinamento, inoltre, sottolinea che finora il giudice amministrativo non ha mai affrontato il problema dell'inedificabilità assoluta dell'area nella quale è stato realizzato il MUOS, così come sellevato dalle parti ricorrenti. La Cassazione, giorno e dietro, ha confermato l'abusività dell'opera proprio perché realizzata in aria inedificabile.